La polizia locale di Brescia ha presentato i risultati sull'attività antidroga e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta in città nei primi 5 mesi del 2019, da gennaio fino alla fine di maggio. Sono stati 37 gli arresti portati avanti, oltre al sequestro di più di un chilo di cocaina, 45 chili e mezzo di hashish, oltre tre etti di eroina e un etto di marijuana, numeri da capogiro, 50 kg di droga bloccati in 5 mesi, una media di 10 al mese, come confermano dalla polizia municipale. Per quanto riguarda gli arrestati, si parla di sei italiani e di altri stranieri, senza dimenticare quelli condotti in centro storico e in zona stazione ferroviaria e quasi una ventina in periferia. Ma anche sul fronte delle forze dell'ordine statali, intensa è l'attività di controllo e di contrasto alla criminalità. Nello scorso fine settimana, infatti, è stato attuato un servizio di controllo straordinario del territorio, cui hanno partecipato quattro equipaggi della Polizia di Stato, composti da personale del reparto Prevenzione e Crimine Lombardia, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Ufficio Volanti della Questura, oltre a due equipaggi dell'Arma dei Carabinieri e un equipaggio della Polizia Locale. Dopo aver perlustrato l'intera area della stazione ferroviaria, effettuando numerosi passaggi nelle adiacenze arrivando fino alla zona Carmine, sono state identificate 88 persone, di cui 20 straniere e 15 con precedenti di polizia. Inoltre, sono stati controllati tre esercizi commerciali, giro di vite anche in altre zone cittadine, Gli agenti della squadra mobile e la sezione criminalità diffusa, a seguito dei controlli effettuati nelle zone di maggior afflusso di giovani, hanno individuato e tratto in arresto due noti pregiudicati. I due individui italiani sono stati sorpresi in un garage a confezionare droga. Nello stesso box, in zona Monpiano, sono stati rinvenuti e sequestrati 300 grammi di marijuana, 280 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione. Il materiale per il confezionamento è 2.500 euro provenienti dall'attività di spaccio. Inoltre, agli stessi è stata sequestrata una pistola a gas ed alcuni componenti di un'arma. Inoltre, agli stessi è stata sequestrata un'arma.